Sto ruotando quello che viene Perfetto A che ora basta la collocchia? Non ho ora, sai? In questo senso non c'è problema Tu non parli in inglese, vero? No E dove sei, in Colombia? De Medellin Ah, Medellin, è vero? Super bonito Claro che, a di nascere, io nascendo in Panamà Ah, tu sei in Panamese, di origine? Nascendo in Panamà, però me criei in colombiana Praticamente colombiana, immaginate, me llevaron con 10 mesi Però ho la nacionalità, la panamella, la colombiana e la spagnola E tu padre sono latino? Mi padre, per parte di mio padre sono spagnoli Ah, ok, spagnoli, spagnoli Per parte di mia madre sono colombiani Questo è un círculo Un círculo, hai Que tal? Un círculo, un círculo al lato Ah si? Si Ahi Qui ti ha una cicatrice Ah si Que ti è passato? Qui qui, tu sai che qui in spagnoli No, la cicatrice la suelen hacer Tenia que hacer una cosita así Pero qui las hacen así grandes No, la cicatrice la suelen Era un lipoma La lavadora La lavadora E se scusa tutto va E lo riva della lavadora Not the best La lavadora La lavadora La lavadora La lavadora La lavadora La centrifuga Per il massimo 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 che dà molta tensione un pochino un pochino Che tal la spalda? Super, non ho fatto dolere In serio? Si, non ho fatto dolere, qual è la cosa Hey guys, I feel I need to intervene here You can see when I'm stretching the lopsoas How the right leg is going up That's a sign that the hips are pretty tight I feel I would make a medication that I'm working on how to plan Quite extremely important Alla prossima Here you can see some mobilization of the lumbar And after a great stretch of the glutes, the six deep rotator I really like this stretch because it allows you even to stretch the piriformis muscle in the same time So give it a try And then you can stretch the piriformis muscle in the same time Ok. E questo punto è così con la cabeça, con le mani per l'attra, senza. On questo side you can see how I'm stretching all the deep rotators and all the vertebra in the thoracic. It's a great way to give space in the vertebra and disc. Give it a try and do this technique, your client will love it and you will be able to improve and sell a really high quality. Again you can see the stretching of the glutes and some mobilization of the lumbar between the sacrum to L1. Thank you. 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 Thank you.